Diario del Capitano, giorno 2, mi pare. È che ieri sera stavo ubriachissimo, tipo che ho vomitato, no? Quindi magari ho dormito due giorni e questo è il giorno 3, vale a sapere ste cose. Comunque, sto ancora nel pianetino dell'altra sera e nonostante mi sia bevuto l'impossibile non sono riuscito a dimenticare quanto è brutto questo posto. Vedo un autogrill davanti a me. Non è che speri in un caffè decente, eh, però un moment dovrebbero avercelo. Una volta all'interno dell'autogrill mi ritrovo a tentare di comunicare. Su questo pianeta l'usanza è che nessuno ti rivolge la parola se hai l'inventario pieno. È proprio che ti schifano se non hai posto nello zaino, capito? Roba folcloristica, cose così. Gioco un po' col cubo di Rubik semplificato e mi ricarico lo scudo. Il tizio non è l'unico nella stazione, ma il suo collega è messo male. Sta per crepare e mi chiede aiuto. Io però guido le navicelle, non sono di medici senza frontiere, quindi lo guardo agonizzare ancora un po' e poi me ne vado. Mi piace fare la cosa giusta, ma oggi no. Oggi ho le palle girate. Torno alla nave e vado in ricognizione. Guardo in acqua e non posso fare a meno di pensare che con quel colore possa esserci solo un gigantesco giacimento di stronzio. Noto quella che così a occhio identifico come una gigantesca caccola nei pressi di un lago e mi avvicino. È una sostanza chiamata Emeril. Come il gatto castrato di mia cugina, Emeril. Trovo anche del rame sospeso in cielo e ne prendo un po', ma sempre con moderazione perché se c'ho troppe cose con me, poi nessuno mi parla su questo pianeta di merda. Dopo la gitarella sul lago mi dedico alla mia missione, caro diario del capitano, ovvero raggiungere il radio faro. Imposto la rotta con una certa approssimazione e spingo i propulsori verso la mia meta. Mentre punto verso il pianeta Sole Greek Rosa, non posso fare a meno di pensare a quanto sia gay questo nome. Non ho nulla contro i gay, per carità, c'ho pure un cugino gay. Cioè, non proprio cugino cugino, è più un conoscente, dai. Anzi, è un tizio che una volta ci ha provato con me e gli ho rotto il polso in una portiera, però urla come mio cugino, uguale, quindi faccio confusione. Scendo sul pianeta, che guarda caso è parecchio frufru, e accendo il radio faro. E, caro diario, sapessi che delusione quando scopro che prende solo media shopping e radiomaria. Ogni secondo che passo su Sole Greek Rosa mi sento meno virile. Dopo qualche minuto che passeggio in giro, inizio a interessarmi ai miei sentimenti e quasi trattengo una scoreggia. Voglio andarmene. Ma ho delle robe da fare qui e non posso andarmene. Devo ispezionare un avamposto che sta qualche chilometro più avanti. Prendo la nave e seguo il navigatore. Schiaccio a tavoletta e arrivo a tempo di record. Solo che, se mentre volo sono un professionista, quando si tratta di parcheggiare calcolo le distanze male male male. Fermo la nave a tre giorni di cammino dall'avamposto e bestemmiando gli dèi mi incammino. Entriamo nel modulo principale e un tizio dall'aria ambigua mi offre il progetto per l'iperguida. Cosa molto apprezzabile, visto che è tecnologia che permette di muoversi tra i sistemi a velocità bella allegra. Il punto è che il tizio non mi chiede soldi. Lo sento farfugliare qualcosa nella sua lingua e a un certo punto mi pare di riconoscere la parola pompino. Non è la sola cosa che mi inquieta. Leggendo il progetto vedo che mi serve un risonatore dinamico. Ora, io la scuola per piloti l'ho fatta, ma di sta roba dinamica non ho mai sentito parlare. Forse è una cosa nuova che non stava ancora nei quiz della patente all'epoca. Che poi lo so che se c'è la parola dinamico, la risposta è sempre sì. Funziona così, domande tra bocchetto. Scappo con una scusa e appena fuori dalla stazione trovo un orissai perust, che nella lingua del posto significa anguilla che sembra un cavallo. Gli do da mangiare e saltella via, maschio come le ovaie proprio. Ho capito l'andazzo del pianeta. Ore 17 e 45. Mi sono rotto il cazzo di stare qui e voglio andarmene, ma da lontano vedo del fumo. So che sono su un altro pianeta. So che qui non c'è l'agnello. So che forse sono pazzo, ma non posso fare a meno di pensare che qualcuno stia cucinando degli arrosticini. Allora mi avvicino e trovo... Un macchinario tutto sfondato. E che ci trovo dentro? Gli arrosticini? Nah. Ci trovo una nuova tecnologia. Mai na gioia, diario. Mai na gioia. C'è l'eridio, però, che scientificamente è l'elemento più distante in assoluto dalla carne di castrato, ma già che ci sono lo prendo. Poco, però, eh. Poco, poco. Hai visto mai che voglio chiedere informazioni a qualcuno lungo la strada? Mi decido e parto per la stazione spaziale, dove si commercia, si fa cultura, si condivide l'esperienza e dove il giovedì sera fanno le trofie con le vongole. Mentre schizzo oltre l'atmosfera di Orissa e Perust, un dubbio mi assale. Ma oggi è giovedì o venerdì? Non lo so, ero ubriaco e ho perso il conto. Comunque alla stazione c'hanno lo stereo a palla. Sento che hanno messo su una raccolta di classici anni 80 e mi fa salire la nostalgia così forte che la mia tirchieria subisce una leggera flessione e mi faccio rapinare un fracco di unità per quel minchia di risonatore dinamico. Adesso, però, chiudo Diario del Capitano. Chiudo perché devo passare alla mensa e se non c'hanno le trofie alle vongole, è la volta buona che mi incazzo.